Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze e un chilometro di coda invece in direzione Livorno. Sempre in FIPILI e sempre a causa di lavori rallentamenti anche tra Montopoli Valdarno e Ponte del Ovest e Ponsacco in direzione Pisa Livorno. Spostiamoci sul raccordo se è una Firenze anche qui rallentamenti a causa di uno scambio di carreggiata per lavori tra Tavernelle e lo svincolo di San Donato in entrambe le direzioni. Uno sguardo alla viabilità della città di Firenze a causa di lavori rallentamenti e code in Viale Spartaco-Lavagnini direzione Piazza della Libertà. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!